Benvenuti a tutti, ciao ragazzi, ciao! Sempre da Pugna e Fichi, io sono Crugna, io sono Fichi Dopo la splendida esibizione, lo splendido successo, è fantastico, è fantastico Del primo video, l'unboxing della nostra prima scatola di sardine piccanti A grande richiesta, grazie per i 10 iscritti, grazie per il grandissimo supporto Soprattutto i due non mi piace, poi li diamine apprezzate i commenti I commenti ragazzi, abbiamo iniziato a fare video su Youtube solo per avere degli haters Gente che ci odi, odiateci, tiri i funghi trifolati La marca non si dice perché loro non ci hanno sponsorizzato e l'avete voluto voi Magari nei commenti vi diciamo la marca, così magari qualche soldo ce lo danno le stesse Non si sa mai, non si sa mai Uno ci prova a fare i soldi, poi non tutti ci riescono Quindi siamo di nuovo qui, siamo di nuovo qui con uno splendido video di unboxing Il nostro secondo video di unboxing E se vuoi fare di nuovo tu gli onori Ok, come vedete qui abbiamo la nostra scatola Molto simile a quella delle sardine piccanti Anche qui abbiamo l'anello per la vostra ragazza Diciamo che se volete sposare Sì, è più stretto, è più stretto in realtà Secondo me, quindi Per il mignolo, perché l'altro non è stato questo mignolo Ogni scatola è un anello che ha una scatola I fiodini sono più piccoli Delle persone più maglie, non lo so Sì, 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 giustamente Vegetariani I vegetariani è noto che siano magli E quindi ovviamente hanno le dita piccole Tanto questo lo taglio, quindi non ci sono problemi Passiamo all'apertura della scatola Vediamo se si apre bene come le sardine E questo ho fatto più fatica La macchina non è delle migliori Guarda che ci vuole un certo bicipite per fare ciò E come fa la vegetariana? E mi ha detto che sono magli Ah, l'olio Troppo olio Troppo olio Troppo olio Qua abbiamo rischiato il danno Ma l'abbiamo salvato Come faccio adesso? Un piatto sporco Ecco, questo anche con un po' di ketchup E con i funghi, si sa Ci stanno bene Vuole avere lei l'onore Perché io Dai, proviamo Io tengo Sei pronto Il cibo divino Non lo posso farli guardare Perché c'è troppo olio E io magari rovescerei un po' di olio Non lo so Aiuto poco Abbiamo qui l'aiuto poco E io fai Quattro momenti Abbiamo solo piccoli 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 Saltiamo al pezzo In cui ci siamo stronzati Adesso iniziamo subito con il cibo E iniziamo l'assaggio Che iniziamo l'assaggio Iniziamolo con il naso C'è un po' di come sniffa No, non ho mai so No, dall'odore Cioè io ho sentito qui Non so Tu, Fiki O Polugno Come casa si chiama Non lo so Cambio niente È... Olioso Olioso Ecco È un odore Olioso Oleante Aliante No, oleante Non lo mangio lì Basta Basta Io sento E il fungo Questi sono i fungo Devo iniziare io Ebbene Quindi sono iniziato Un po' che deve rompere Una sciampignola Sì, quella una sciampignola Abbiamo letto Che il sciampignola Coltivata a terra Questo Si sente La terra La terra Quindi Razzola Predica bene Non posso fare video Con un collega così Scusatemi Detemelo a mano Benissimo Grazie a tutti L'unboxing è andato benissimo Siamo contentissimi Spero anche voi Siete contentissimi Di questo splendido Unboxing Un saluto Da Plugni e Fichi Da Plugni e Fichi Grazie a tutti Boccardi 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 Boccardi